Buongiorno mister, volevo chiedere come ha visto Favilli in quel quarto d'ora che è subentrato, se ci sarà più un inoltaggio per lui e non una situazione di defensione in attacco, se riesce a dirci se è recuperato più. Allora vi dico, probabilmente rientreranno tutti, per quanto riguarda Favilli mi è piaciuto, una bella presenza, nonostante fossimo in doppio a inferiorità numerica, però mi è piaciuto, come mi è piaciuto chi è entrato.